Se avete bisogno di crediti vi consiglio FIFA Coinzone, vi lascerò il link in descrizione, sito davvero veloce, affidabile ed economico, il meglio che potete trovare al momento sul mercato. Wesley Snyder Wesley Snyder, lo ripeto, Wesley Snyder, giocatore pagato 150.000 crediti, ma ragazzi vi posso assicurare che è il miglior COC che io abbia mai provato in ogni cazzo di video. Allora, Wesley Snyder, olandese, che grazie alla tripletta contro il Bursa Sport con ovviamente il Galatasaray, è riuscito a avere questa carta second in form che è una delizia. Iniziamo a parlare dei pro e dei contro. Allora, primo pro che ci salta ovviamente all'occhio è il controllo palla. Questo giocatore ha 86 di dribbling riportato sulla carta e un 91 di controllo palla. Ovviamente, secondo me, ovviamente, l'ho ripetuto due volte ovviamente, un COC deve avere per forza un attimo controllo palla. Lui ce l'ha e ce l'ha, ottimo. La palla ce l'ha sempre attaccata ai piedi e il primo tocco è ottimo. Secondo pro, tiro, 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 tiro di coca. No, vabbè. Il tiro di Snyder è il più OP, il più overpowered del gioco. Non ho mai, dico mai e dico proprio mai, provato un tiro così. Così. Allora, leggiamo le statistiche. 86 sulla carta, 99 di tiro a giro. Eh già, cosa devo dire? 99 di calcio di punizione. Ok. 98 di tiro di long shot. 99 di potenza a tiro e 91 di tiro al volo. Cosa devo dire? Cosa devo dire? Che sono perfetti? Guardate, dalle clip, devo parlare io? Devo parlare io? Guardate le clip. Non ha bisogno di recensioni questo giocatore. È fortissimo. È fortissimo. Oltre a dirvi che è allucinante il tiro di Snyder. Cosa vi posso dire? Cosa vi posso dire? Poi il long shot è una roba absurda perché grazie alla sua potenza tiro e le 5 stelle piede, debole. Cosa posso fare? Cosa posso fare? Cosa posso fare? Chiedete a Green Goose, Carlo, Mugnat, che mentre ero su Skype con loro, si sentono me che grido alle perle di questo giocatore. Da lontano. Cioè, assurdo. E nulla. Quindi il tiro tra i pro, come avete ben capito, il terzo pro è il passaggio. Allora, passaggio mi contengo un attimo. 90 di passaggio. 92 di passaggio corto ed è allucinante perché comunque sia, i passaggi corti non li sbaglia mai, mai sempre perfetti. E 90 di visione, straottimo. E 94 di passaggio lungo. Neanche qua niente da dire. Non vi dico però che è perfetto perché qualche volta è capitato che mi sbagliasse qualche passaggio lungo abbastanza semplice per uno che comunque sia 90 di passaggio. Ottimo. Do, per dire, 8 a 9 a questa statistica. È buona. Poi, è buona. È superlativa però, conteniamoci. Altro pro, invece. Le stelle piede debole, ma ve l'ho già detto. Ok, allora. I pro sono molto generali, come avete ben capito. Adesso inizierei a parlare di contro. Allora, perché ne ha? Seppur perfetto questo giocatore, pecca di agilità. 80 di agilità. No, no. Perché comunque sia un giocatore non proprio velocissimo. 74 di velocità e 80 di agilità. L'agilità pecca, pecca. Non è molto agile e neanche veloce. Non è molto veloce. Cioè, in accelerazione è buono. Perché da qualche clip si nota. Però l'agilità pecca. Infatti il suo dribbling non è proprio velocissimo. Ma, comunque sia, è abbastanza buono il dribbling di Snyder. Levando, ovviamente, contro l'opano. La velocità, invece, vorrei mettere una nota, anche se non le mette nei contro. La velocità. È buona, soprattutto l'accelerazione. Però non è proprio sta gran cosa. Ovviamente pecca di agilità. Lo ripeto per la millesima volta. E niente. Altro contro. Le tre stelle piede skill moves. Purtroppo, purtroppo. Perché se avessi quattro stelle skill moves sarebbe davvero assurdo. Poi, la strength, scusate. La strength, perché comunque sia un giocatore che... Vabbè, 67 di strength non è proprio la merda. Però è 1,70. E l'1,70 puoi avere 99 di strength. Ma se sei alto 1,50. Non conta un cazzo, secondo me. E quindi questo è un altro contro. Cioè, voglio dire che comunque sia... Giocando in mezzo, purtroppo dovrà scontrarsi con i vari... Cdc della Madonna. Come Ture, Ikyote e Contro Cazzi e Matic, eccetera. E comunque... Non mi sta molto bene, comunque sia. Se fosse un po' più alto, avessi quattro stelle piede debole. Quattro stelle skill moves sarebbe davvero assurdo. Però chiedo troppo. E niente, strength quindi contro. E l'altro contro invece è posizionamento. Perché questo giocatore, sì, non è che non si fa mai vedere. Però, pecca sotto quel punto di vista. Magari siamo sulla fascia. Non lo troviamo che viene incontro a chiedere il pallone. Ma magari sta in centro, capito? Non lo troviamo sempre. Questo, infatti, è uno dei contro che gli do. E 70 anni di posizionamento non è proprio il massimo. Va bene. La recensione su questo mostro è finita. Io penso di avervi fatto capire che ve lo straconsiglio. Gli do un bel 9. E come vedete, metterò comunque sia tiro, passaggio e controllo palla nei pro. Generalizzo tutto. Mentre nei contro. Anche se sono di più. Ma Snyder è il giocatore perfetto. Il COC perfetto. Io vi saluto, vi ringrazio. Passate da FIFA Coins Zone nella descrizione. E lasciate un bel mi piace. Spero di arrivare a 200 per questo Wesley Slone. Wesley Slone. E nulla. Bella. Bella.